Ci siamo, il 1 luglio 2017 è una data destinata ad entrare nella storia di Capodorlando. Dopo 45 anni la città ha il suo porto turistico. Ieri sera intorno alle 20.15 è arrivata l'ordinanza della Capitaneria di Porto che autorizza l'ingresso nello specchio portuale. Ciò significa che da oggi il Porto Orlandino, seppur non inaugurato ufficialmente, lo sarà tra qualche mese, è operativo. Per noi c'è grande soddisfazione, io mi emoziono sempre molto quando apro un porto, è un momento per noi molto vivo. Oggi è il giorno numero uno, in realtà la prima barca ieri notte è arrivata perché poi oggi partivano. Devo ringraziare tutti dal cantiere che è stato pazzesco nelle ultime settimane alla Capitaneria di Porto che in questi ultimi giorni ha fatto i salti mortali per riuscire a farci rispettare questa data del 1 luglio. Io ho 10 anni di esperienza in marine, è la prima volta che apriamo nella data in cui si diceva che si sarebbe aperto. Oggi si inizia, è già entrata la prima barca, in questi giorni arriveranno le altre, non c'è l'inaugurazione ufficiale ma insomma si lavora. Allora, ne sono entrate due, oggi ne aspettiamo altre, poi in tutto dovrebbero nei prossimi giorni arrivarne un'ottantina più tutti quelli che non sono contratti ufficiali, sono contratti stagionali o solamente per qualche settimana. L'inaugurazione ci sarà ma ci sarà quando avremo concluso proprio tutti i lavori. Vogliamo fare un'inaugurazione in cui ci siano tutti gli esercizi commerciali aperti, lo yacht club pronto, quindi fare un qualcosa che sia veramente con tutto il porto aperto. A proposito, fine mese diciamo che il grosso sarà tutto ultimato, c'è nel senso fine mese qui sarà quasi tutto operativo? Sì, sì, assolutamente. Stanno terminando la parte più a est del marina, per ora si è aperta la parte più a ovest ma noi abbiamo un calendario molto stretto, via via il cantiere ci rilascia delle parti che poi vedevano essere autorizzate dalla capitaneria ma diciamo i lavori entro luglio finiscono.